Con il governo Musumeci il tema della pianificazione ambientale e della tutela dell'ambiente diventa per la prima volta un fatto gestionale concreto. L'assessorato al territorio e all'ambiente svolge il ruolo di apripista. Plastic free al 100% così come avevamo promesso, distribuiremo le borraccette in alluminio, abbiamo installato gli erogatori di acqua potabile su tutti i piani, efficientamento energetico, illuminazione led, risparmio anche economico e poi ancora attuazione della convenzione con RAP per la raccolta differenziata. Abbiamo i cestini della differenziata su ogni, i raccoglitori su ogni piano e quindi è un'attività concreta che dà anche respiro ad una risposta della Sicilia. La raccolta differenziata dal 18 al 19 è aumentata di oltre il 15%, siamo convinti che sia una battaglia culturale e dando l'esempio come classe dirigente di questa regione, tutti insieme questa battaglia la possiamo e la dobbiamo vincere.